Sono finite con un drammatico epilogo le ricerche di Maria Ferraro, la 55enne di Lago Negro, della quale si erano perse le tracce ieri pomeriggio. La donna è stata rinvenuta cadavere questa mattina, intorno alle 11, nello specchio d'acqua antistante al parco Marinella Villammare. A ritrovarla gli uomini della Capitaneria di Porto, del circondario marittimo di Palinuro, qua adiuvati dai volontari sapresi del soccorso in mare di Pierino Giannetti e dall'alto da un elicottero dei carabinieri che ha alzato si involo da Ponte Cagnano, dalle prime luci dell'alba al perlustrato l'intero golfo di Policastro, fino a giungere alla tragica scoperta. Ricerche senza sosta, difficili, date le condizioni del mare, oggi particolarmente torbido, che purtroppo non hanno dato l'esito sperato. Il corpo della donna, una maestra d'asilo, pare già provata da tanti dolori, è stato recuperato a circa un miglio e mezzo dalla costa. L'allarme era scattato ieri pomeriggio, quando la donna non era rientrata nella sua abitazione a Lago Negro. Pare che a condurre i carabinieri dalla vicina Basilicata a Villa Mare sia stata la prima e immediata scansione degli agganci alle celle telefoniche del cellulare della 55enne. Ore incessanti di ricerche, fino a quando i carabinieri dell'alicota radiomobile di Sapri e della stazione di Vibonati hanno individuato prima l'auto della donna, una Fiat Marea e poi alcuni effetti personali abbandonati sugli scogli. Tutti in un raggio di pochi metri a ridosso della chiesetta di Portosalvo a Villa Mare, luoghi che a quanto pare Maria Ferraro conosceva bene. Ha parcheggiato la sua station wagon, ha lasciato un biglietto sul sedile e poi ha raggiunto la suggestiva spiaggetta. Ha continuato con i suoi insani pensieri, ha scritto un ultimo messaggio sulla sabbia e di lì, secondo le ricostruzioni, si sarebbe tuffata in acqua lasciandosi morire. Il corpo, dopo il recupero, è stato trasferito dapprima al porto di Sapri e subito dopo presso l'obitorio dell'ospedale Immacolata, dove il medico legale, nelle prossime ore, effettuerà gli accertamenti del caso.